Trovati con Dark Souls, rimasti Raid, sono ritornato qui, ho fatto secchi quei due fottuti bastardi e ho recuperato le animelle. Adesso però viene il difficile, perché noi dobbiamo salire lì e ci sono i due cavalieri neri che ci rompono il culo con le frecce. Uno è là. Eccoli qua. Ma non è un'impresa facile, eh? Sti bastardi, eh? Bastardi. Via, 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 via. No! Ah! Ah, bastardo! Crepa! Ok, lui, uno è morto. Ci sarebbe da andare dall'altro lato, qua c'è la nebbia. E il falò? Andiamo a vedere che il falò è da dove c'è quest'altro bastardo. È caduto? Forse è caduto. Ah no, 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 è là. Eh, ma io volevo il falò, eh. Eh, lì c'è la nebbia. Poi se scendo da là... Porca la troia. Eh, ci deve essere per forza il falò. Ma dove sono? O è là sotto. O è dove c'è sto porco. Che lo ammazzo e scendo giù c'è il falò. Vabbè, sapete che c'è? Perché io non voglio... Ci buttiamo e vaffanculo. Ecco qua. Come va? Va? Dove siamo? Apri. Falò. Uh, guardate chi c'è. Ok. Avanziamo di livello. Destrezza. 20. Ok. Potenzia arma. Niente. Armatura. Di quelle che abbiamo. Eh, l'armatura... Ti teneteci nell'armatura questa addosso. Anche queste qua. 31. Ah, il gargoyle. Vabbè, capirei. Da 15 passa a 16. Vediamo l'armatura. 60. Eh, vai. Ok. Ripara. Eh, ripara tutto. È posto. Eh, cassa senza fondo. Allora, le frecce. Dardo. Ecco, frecce non ne ho. Vabbè, questa la mette la là. Questa pure. La drago no. Questa pure. La glamour pure. 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 Spada possente. No, no, ma questa va benissimo. Ok. La mannaia. Mazza grande, la lancia, cosa, cosa, tutto. C'è culmine. Ok. Falce. Argo. Arco. Corto. Arco lungo. La balestra. Ci serve. Via. Via. Scudo. Via. 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 Allora, scudo. Aspetta un attimo. Scudo è un cavallero senza no. Una parola. Uno degli scudi. Lo scudo. Gimitano numeri di duce. Naturalmente gli danni da fuoco. Lo scudo. Uno di duce. Naturalmente gli danni magici. C'era qualcosa? C'era qualcosa? Allora. Che non riduce gli danni fisici. Aumenta il recupero. Ah, eccolo. Vecchio scudo. Che aumenta il recupero dell'energia. Cornisce una buona protezione. Provisione di tenere di stabilità. Allora. No. Aumenta questo qua. Aumenta il fuoco. Aumenta il fuoco. Non lo colpire. Niente. Ok. Quello scudo là. Ce lo dobbiamo equipaggiare. Ma non per usare. Allora. Vabbè. Questo non li posso. Anelli. Aumenta il fuoco. Non lo fiamma. Questo qua. All'amore. Il portatore non perde nulla. Magari. Non lo fiamma. 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 Uno degli anelli. Un anello del lupo. Ok. E niente. Ok. Ok. Torniamo mani. Riavviva la fiamma. Ok. Alzate. Allora. Eh. Bisogna vedere. Vedi? No. Va bene. Vedete? Ci fai recuperare l'energia. Mo' me la son ricordata sta cosa. Parla. No. No. Da chiamarmi. Grazie. Ahahahah. Che bastardo. Sì. Ok. Allora. Con questo scudo come vedete abbiamo il recupero della stamina molto più veloce. E fortunatamente ci mantiene pure morbidi morbidi. Cioè nel senso non siamo così pesanti. Allora. Allora. Adesso c'è da vedere qua il da farsi. Allora siamo venuti. C'è da vedere qua il cavaliere nero e che ci fai tu qua? Vedete come lo sfondiamo. Non ha possibilità. Medaglione del sole 3. Allora. Non ho capito. Ti cazzo. Medaglione del sole. che cazzo. Che cazzo sarebbe qui le vane. Vabbè. Comunque. Abbiamo fatto zero. Avete visto come le sfondiamo? Questa spada. Viene. Viene. Viene mare. Viene. Rupio senza piedra. questa porta non si apre da questo lato quasi otto pure aspetta ho trovato il segreto qua sotto che c'era? io mi chiamavo le cose una dove sei? bastardo guarda quanti pezzi di cose che ci sono qua mi sa che ci sono i Mimic ho sentito dei passi ma qui non c'è nessuno vabbè comunque adesso dobbiamo vedere qua che non siano Mimic e l'avevo detto io no! l'ha lasciato cazzo guarda la varda sto testa e dai tre oh e che cazzo randello occulto tutto sto bordello per un randello di merda questo è uno mo io senti i passi ma questo niente niente? ok allora questi due sono tranquilli dente di drago ah si questo è pure un'arma scudo grande di Havel forse mi sa che qua prendiamo proprio l'armatura tutta completa di Havel ma questo è il libero il elmo e armatura guanti e gambo ok abbiamo tutta la sua armatura la più potente del gioco a livello di difesa ma anche di peso eh sette e mezzo diciannove e mezzo undici e mezzo eh col cazzo l'andossiamo per il momento no ragazzi va beh comunque qua l'avevo fatto questo è quanto questo è quanto oh ma questa non si apriva quindi su va beh eh bastardo eh dai giù perfetto moneta d'oro e sarà sopra sto figlio di puttana dai oh astardo maledetto beh e quanto cazzo di colpi vuole la spada forse sta partendo 5 d'argento e quella d'oro va bene la testa del drago e qua che c'era niente cioè perché cazzo venivamo qua per niente impossibile boh pare strano comunque vabbè eh cazzo no ci ha ammazzato sto bastardo troppo spazio vieni vieni ok al momento ci massacrava sto figlio di puttana eppure qua non c'è niente ah no là c'è qualcosa anima di un oro tutto qua possiamo andare ancora su ah c'è quello qua si apre da questo lato ma chi è ho capito che cazzo è che ci spara opla figlio di puttana bastardo di merda che cazzo sono finita uno e due si vabbè poi veniamo qua c'è ancora da esplorare qua ma sarà fuori quello di fuori che ma per forza si apre oh quindi il cipollotto c'è un cipollotto qua dentro però non si apre da questo lato scusa eh dove cazzo qua va bene qua ci siamo stati nessuno non si può andare a meno che non è lì dalla finestra il cipollotto ma l'era dimenticato questo non si apre qua ci siamo già stati qua ci siamo stati lì c'è il palo e da qui siamo entrati quindi per forza da là devo andare devo per forza andare là sopra a questo punto allora questo è che penso di fine ma voglio ancora sfruttare e ho capito usa non me lo fa usare non me lo fa usare ma lo fa usare la destrezza va bene la porta va bene la stamina la stamina ripara a potenziamento niente va bene così e via ripeterniamo la la non ma guarda di puttana mi stagione, fanno capire Va, va, va Dio di te rolla E spostati cazzo Niente Eh oh per forza Spazi stretti Troppo lenti Poi lui c'è lo scudo Vabbè tanto Io per questo mi ero potenziato Che lo sapevo Il fatto che noi abbiamo perso la vita Non siamo più umani Rottura di palle Ma che cazzo Grazie a tutti Ah va, un coglione va Ecco Proprio scoppiato Come un palloncino Alla prossima andiamo qua che cosa c'è cipollotto che è aperto cosa che ti serve 5 corpi oh cazzo pensavo che era la stanza un'altra non questa qua dove c'erano sti bastardi ma l'umica viene ci fa affare a noi guarda tutto e due rimassato oh spostati cazzo figlio di troia che mi stavi per ammazzare bastardo e muori vaffanculo c'è qualcosa alla porta ok titanito dal demone 2 e cipollotto missione compiuta si anello tribale ok vediamo st'anello che ci ha dato il piccolo incremento di pv vabbè ce la frega un cazzo ok adesso qua l'abbiamo fatto ma c'è sopra ancora cavalieri neri qua c'è quello ce n'erano altri ah se sono tu e crepa non mi rompere le palle pure tu a fanguola ok ah ecco siamo nella scala qua si scende eh stiamo andando qua si scende vediamo qua dove ci portava ah ok si 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 qua ci fa aprire il portone ma qui si scende e torniamo sotto all'inizio si eccolo là se non sbaglio però prima ci sarebbe da aprire il portone ah c'è il fabbro qua c'è il fabbro si 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 apriamo la scorciatoia il gigante eccolo qua eh ah questo oggetto evolve equipaggiamento il randello occulto potenzia randello di drago con la scaglia di drago scudo ondulato ah quello che abbiamo vabbè ma che mi cambia armatura armatura un cazzo acquista la titanita titanita verde titanita scintillante 8000 angula bastardo elmo gigante armatura del gigante 27 vabbè quando vuoi allora intanto riparamelo ok eh acquistiamo che acquisto potenza arma che mi serve la titanita normale allora acquista titanita allora intanto una potenziamola ok poi titanita ancora due ok potenza no potenzia titanita tre potenza oh pezzo titanita bianca ma l'ho portata al massimo l'ho fatta penso di sì evolvi niente potenzia arma l'olvi ah questa randello ok quindi ci siamo potenziati al massimo la spada è già qualcosa sì sì si sì caro tornerò presto due gol prima erano tre Eh, mo due! E' bastardo! Puoi morir? Prepa! Ok! Mo? Apriamo la scorciatoia qua! Guarda sto bastardo! E' figlio di puttana! Ok! Eh! Eh! Pezzo di merda! Prepa! Pezzi di titanete! Basta! Ok! Vedete che non c'era un cazzo! Qua possiamo solo aprire la porta adesso! Qua! E praticamente ci siamo fatti la scorciatoia! Se dovessimo ripartire da quell'altro falò! Eh! Allora! A questo oggetto! 8000! La titanita è scindilante! Magica divina e fuoco! Rinforza fino a... Titanita grande! Rinforza più 10 arma! Grezza! 3000! Ne ho 14! Eh! Eh! No! Già ce l'ho! La dovrei trasformare! Ma non lo fa lui! Eh! Non me lo fa lui! Ok! Ok! Comunque! E qua abbiamo fatto! Allora! Allora! Qua vado ad aprire il portone principale! Ok! Eh! Vabbè! Qua vado ad aprire il portone principale! No! Anima putto questa sottostola o bastardo! Lave! dai vieni dai bastardo oh ma è rotto ah là c'è il boss ma guarda sto bastardo è uguale a quegli altri ma sembra è molto più veloce non si è non si è manco fatto male nel senso non è barcollato no ma che cazzo ma veramente uh ma l'ho scortato no 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 si è curato no e questo mi rompe il culo è molto più forte è il bello che c'è abbiamo una sfada al massimo no no ma è cagata il cazzo però eh ti manca un cazzo di sputo guarda là niente niente ma vaffanculo non ce la faccia vaffanculo eh 3.000 è il doppio di quegli altri allora mo sta porta come cazzo era qua apri ah ok boh se io ritorno indietro poi facciamo il percorso tutto dritto e arriviamo qua e anche perché sono obbligato a farlo mo perché siamo senza un cazzo di niente c'è il boss io non mi ricordo se abbiamo già visto tutto qua guarda di sì oh questo mi segue ah ci manca da scendere da qua tanto muo' è aperto fatemi scendere vediamo che cazzo c'era qua ah si va di là eh sì siamo sempre dalla parte di sopra eh di qua e poi devo usare l'osso del ritorno ah c'è l'osso del ritorno l'arco potente ammazza draghi ah no no siamo arrivati e siamo ma ma vaffanculo va ma vaffanculo vabbè comunque qua siamo ok non un problem eh ah sì perché ora c'è la stanza del cipollotto aperta era qua dove era qua oh oh via 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 oh cazzo allora là c'è il demone si c'è da recuperare le anime lo so oh l'armatura del cavaliere d'argento ok si ok dunque cavaliere di ferro cavaliere d'argento ma siamo stra pesanti come mai eppure pesa meno di se è fatto servitore del cavo su più uno allora facciamo così questo rimettiamo questo siamo ancora pesanti il guante quale avevamo? questo abbiamo praticamente l'armatura del cavaliere d'argento 33 su 78 va bene ok andiamo da qua le animelle sono qua sotto aspetta però è probabile che me le lascia sopra lo vedete sono qua sopra sono dove sono? no non ci sono qua vabbè però io non penso che muoio prima sono morto perché non avevo energia e poi le animi sono là guarda sto figlio di puttana che a momento morì ok 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 eh lo so allora potenzio titanite scintillante cazzo è giusto questo ci vuole la titanite scintillante per potenziarla costa lire di dio col cazzo col cazzo proprio pure l'elmo titanite scintillante eh si ok eh ragazzi che dire ma non c'è da andare al boss allora aspetta un attimo grazie 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 Ci conviene, come ho detto io, tornare indietro a quel cazzo di falò e poi così almeno facciamo tutto il percorso dritto. Li schippiamo a questi. Ce l'abbiamo tutto dritto, anche se, anche se, onestamente, noi da lì dal cipollotto, dal falò, saliamo, andiamo là, scendiamo, è la stessa cosa, diciamo. Però c'è gli nemici da affrontare, qua invece sono color questi, li schifo subito, ciao. Quindi io dico che è meglio ripartire da qua, va? Tutto dritto. E poi la cosa bella qual è? Che adesso una volta abbattuto sto boss di merda, avremo la possibilità di trasferirci da un falò all'altro senza più tofare tutta sta cazzo di strada ogni volta. Quindi, il bello è proprio qua adesso. Allora, innanzitutto, fammi vedere, no, anime, no, per aumentare di livello, riporto, via bianca, servitare del caos, poi mi hanno saluto a questo, si. Ok, fatto stabilito. Un attimo che mi sono nel telefono, ragazzi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.